L. Bulgarini, linea allo studio. Il servizio era di Paola Bonanni. A Milano il ministro dell'economia Giulio Tremonti ha affrontato il tema della crisi economica mondiale, ha proposto i rimedi che ritiene necessari. Ascoltiamo il servizio di Paolo Gila. Giulio Tremonti ha parlato per circa un'ora alla platea degli studenti del Collegio di Milano e ha descritto la sua interpretazione dei fatti storici, recenti e attuali. Il Tremonti pensiero punta il dito contro l'uso smodato dei derivati, gli strumenti finanziari che agendo al di fuori delle regole hanno consentito la corsa dei capitali sulla strada dei rischi. E' stata abbandonata la via maestra della prudenza, ha detto, e il sistema è andato fuori controllo. Tutto ciò è potuto avvenire per la globalizzazione e la creazione di un mercato unico mondiale che a sua volta è stato inondato da merci a basso costo provenienti da paesi come la Cina che si affacciano come protagonisti del futuro. Il mercatismo per Tremonti è l'ultima fase del capitalismo del Novecento, ancora vigoroso. Rimedi alla crisi? Una risposta possibile c'è, tornare a dirigere e controllare l'economia rispettando i diritti locali, ancorando al territorio e non alla casa le scelte per il futuro.